Come andrà a finire questo campionato? Non saprei, viste le ultime annate bianco-nere, credo che gli Juventini si pronunceranno almeno a metà girone di ritorno. Io farò così perché, insomma, mi pare che la squadra ci sia quest'anno, che la mentalità sia quella giusta. Qualitativamente e tecnicamente è cresciuta dall'anno scorso, quindi speriamo bene, incrociamo le dita. L'hai già vista quest'anno? Sì, due volte, Milan e Genoa. Quindi una vittoria e un pareggio? Sì, esattamente, vittoria e pareggio, entusiasmante quella col Milan, un po' meno quella col Genoa. Due parole sullo stadio? Bellissimo, è uno stadio all'avanguardia, credo che la Juventus abbia recepito e capito, prima di tutte le altre società italiane, quanto sia importante avere uno stadio di proprietà e bene così speriamo che sia un buon viatico per tornare a vincere come merita la Juventus. La situazione dell'Inter? Bisognerebbe chiedere agli interisti. No, allora chiedi a te. Ma credo sia, tutto sommato, una squadra da rifondare, ha dei grandissimi giocatori, ma un po' ormai, insomma, usando un termine improprio, un po' anziani, però, insomma, sempre una squadra da cui guardarsi. Ecco, secondo te quindi l'Inter è fuori per il campionato e in Champions League ormai il turno dovrebbe essere quasi superato? Beh, sì, ma che sia fuori per il campionato non lo so, è tutto da vedere, credo sia decisamente presto, bisognerà aspettare la primavera. Ecco, allora, le rivali per lo scudetto per la Juve, c'è chi dice naturalmente il Milan in pole position, perché ha grande qualità e grande esperienza, però qualcuno dice anche Udinese o Napoli? Udinese, Napoli, Lazio, credo che siano squadre di tutto rispetto, lo hanno dimostrato in questi ultimi anni, non sarà, credo, un campionato facile, vedo ancora, devo dire, così i milanisti faranno gli scongiuri, è favorito il Milan. Due parole sulla sentenza Moggi? Beh, insomma, io credo che questo non spetti a me... Cosa dobbiamo dire noi juventini, Paolo? Ma, insomma, credo che nelle stesse condizioni, nella stessa situazione, potenzialmente si trovino o no anche altre squadre. Assolutamente sì, e poi soltanto il primo grado di giudizio. Esatto, quindi bisogna aspettare con calma e non pronunciarsi, perché ovviamente sono tematiche estremamente delicate e bisogna portare grande rispetto verso chi lavora, la magistratura in questo caso, non condannare nessuno prima del dovuto. Andrea Agnelli, fa bene o fa male a continuare, come dicono gli interisti, a ravanare sulla storia degli scudetti? Assolutamente sì, fa bene perché credo che la giustizia debba guardare a 360 gradi. Insomma, abbiamo letto tutti delle intercettazioni che non riguardavano esclusivamente la Juventus, non vedo perché debba pagare solo la Juve e non qualcun altro. Allora, ci prendono in giro, noi al martedì sera, al mercoledì sera, che cosa facciamo? Guardiamo in tv o andiamo al cinema? Io non guardo le altre squadre in tv, non vado neanche al cinema, perché è una cosa che non mi entusiasma. Spesso ho delle cene di lavoro e quindi mi dedico a quelle, anche se insomma, magari preferirei riposarmi un po'.